ricompensa grazie per aver completato la difesa scudo antitempesta finale di tavolaccia beh non c'è di chi epic forse è il ritardo di qualche anno però un altro pacchetto regalo una ricompensa per aver completato la difesa scudo di casa base di pietralegno un'altra immagino per far larguta e un'altra immagino per monte questi dovrebbero essere tutti slot eroe in più esattamente siamo a 9 slot eroe dai è già un passo in avanti wewe ragazzi e bentornati finalmente sono usciti l'ama compleanno del secondo compleanno di fortnite sono davvero davvero curioso di vedere cosa troverò io allora mi pongo già degli obiettivi mi pongo degli obiettivi con voi voglio rendervi partecipi che cosa desidero trovare ovviamente desidero completare il registro prima di completare il registro mi piacerebbe anche riuscire a ottenere più schioppi se ne ottengo soltanto uno ovviamente ne terrò uno ad energia e terrò quello che ho fisico fisico però se ne trovo di più il mio obiettivo è portarmene uno di fuoco uno di natura e uno d'acqua beh raga io direi che è ora di partire con il lama opening i lama costano 1000 biglietti l'uno e speriamo di trovare quanta più roba possibile ho sbagliato e ne ho aperto uno solo perché non so se ce l'ho nel registro ecco ciao 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 piccolo aiutante di babbo natale o l'ancillotto oddio che scelta cosa scegliamo cosa scegliamo piccolo aiutante di babbo natale sì direi di sì di nuovo la regina dei ghiacci o igor della peste quindi direi ovviamente igor della peste allora abbiamo finito i primi 20 lama raga vediamo un po' il demolitore a vapore abbiamo trovato un po' di doppione abbiamo trovato un po' di corsari ho visto la sottoterra il duetto niente di quello a cui puntavo diciamo sono contento di aver trovato un'altra vendetta di jack così la potrò mantenere nel registro eccola qui la vendetta di jack sto notando che le ultime perk sono tutte identiche comunque come sono uscite originalmente diciamo hanno tutte le armi le stesse identiche perk eliminare un nemico crea la lumbe di vapore eliminare i nemici con quest'arma può generare dolciumi curativi ok io direi apro altri lama raga anche con questi 5 lama non sono riuscito a trovare un altro schioppo raga vabbè farmerò altri biglietti non è un problema però ho trovato la macchina da scrivere e ho trovato la pistola fantasma che andrò a mettere rispettivamente nel registro volevo farvi vedere intanto anche vediamo quanti livelli riesco a fare col registro se vado a mettere un po' di armi un po' di eroi voglio rendervi partecipi anche di questo intanto tanto comunque non mi servono doppioni addirittura tre volte il corsaro tre volte il duetto visto che già ce li avevo comunque andiamo a mettere nel registro così in futuro evito di trovare doppioni appunto come vi dicevo come vedete la duplicazione funziona se voi non avete l'arma nel registro perché come vedete ha calcolato che non avevo il duetto non avevo la vendetta di jack quindi me la date due volte io effettivamente dovrei aprire qualche lama alla volta magari tre alla volta e ogni tanto andare a mettere quello che mi da nel registro quindi mettiamo tutto i lama sono ottimi eh a prescindere da quello che abbiamo trovato noi comunque si trova un sacco di roba leggendaria un sacco di roba epica vi ricordo comunque di riciclare ciò che non vi serve ok mi tengo i superstiti con la durevolezza trappole e il resto posso riciclarlo ci butto anche tutti questi eroi nel registro tanto raga fondamentalmente gli eroi che comunque già avete insomma non hanno un altro utilizzo se non i manuali di addestramento ma in questo caso andrò a riciclare solamente dopo averli trovati e messi tutti anche nel registro ecco come vedete gli eroi vi boostano veramente veramente tanto eh il livello del registro se è aumentato con gli eroi vi boosta veramente veramente tanto rispetto alle armi vi faccio vedere uh un sacco di ricompense mi sa che vi faccio vedere anche a sto giro eh un sacco di ricompense mi sa che vi faccio vedere anche a sto giro eh dunque raga io vi ringrazio di aver guardato fino a quel video fatemi sapere nei commenti voi cosa avete trovato cosa sperate di trovare raga soprattutto rendiamoci partecipi se avete bisogno potete ancora farmare biglietti i lama resteranno disponibili fino alla fine della stagione potrete comunque aprirne ancora per un po di tempo io per oggi non posso fare altro che salutarvi ricordate che noi ci vediamo domani bella bella ciao